Welfare della sicurezza, le vittime hanno bisogno di essere sostenute sia dal punto di vista del sostegno morale ma anche economico e oggi il Consiglio regionale della Liguria, su proposta della Giunta, ha approvato una legge che è a favore delle vittime innanzitutto quindi le persone che reagiscono a una violenza sulla persona o sul patrimonio avranno il pagamento delle spese legali dalla regione Liguria se vengono indagate per accesso di legittima difesa fatto salvo quello che sarà l'esito di un percorso penale che avrà il suo destino però è importante che si sostenga anche dal punto di vista concreto chi subisce perché è sempre più alto e elevato il numero delle persone che si trovano a dover subire furti, violenze sulle persone e sono i dati anche che derivano dalla lettura della relazione sull'osservatorio sulla sicurezza urbana della regione Liguria quindi se la politica ha occhi per guardare cosa c'è intorno e come si stanno muovendo le cose non possiamo abbandonare le persone deboli tra l'altro soprattutto gli over 65 avranno una priorità nell'accesso a questi fondi l'accesso a questi fondi